Allora Per che cazzo ogni volta che devo registrare mi ci deve sempre piovere Ma porco E vabbè Cioè adesso mi ricordo anche i tasti per partire Non era questo? Ok ho ritrovato il tasto Abbassami anche un po' il volume perché Si io può Avevo la precedenza cornuto per Levatevi dalle palle Ma va anche Sentite Siccome Sono una persona molto per bene Scendimi un attimo qua Cazzeggioma un po' eh Siccome sono una persona Tanto Perpetta Scusatemi scusatemi Giusto avevate ragione Ok Bene 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 Ok Ora dire di correre il più fretta possibile Minchia se adesso arriva la pula Via Corri Corri subito Minchia No 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 Levati Mi stai seguendo te mi rompi le palle pure Aspetta 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 Dimmi che c'ho un'arma di distruzione di massa No c'ho però un eicottoro dietro Allora Spetti 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 Signore Non si parcheggia così l'auto Ma non si sporano i civili Non si sporano Va fan club pure te Chi è? Buongiorno salve foto la vostra auto siccome sono una persona tanto per bene via ma zio povero perché devono sempre perché quante cazzo di gente c'ho dietro eh si è giustamente il gioco così bustordo che allora adesso vinculo anche la nonna ti è così non mi rompete più buongiorno salve si revi si re vi dovete vi dovete levare aiut via 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 c'è una granata c'è una granata dietro si fanno 4 un po' di cazzo un po' di cazzo no 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 perchè premo sempre tosto sbagliato non è più non si può spiegare signore signore c'è una bellissima auto c'è una be io stavo solamente facendo i complimenti a un signore perché aveva una bellissima auto perchè dovete prenderla con me io che ho fatto no scusate io l'ho fatto di niente stavo facci di complimenti a persone ero questo mi spara perché giustamente qui non si possono fare complimenti qui bisogna sparare la gente ah mi hanno tolto un bel po' di soldi eh mi avete tolto così tanti soldi mi chiede se io mi arra c'avevo un'arma del 1900 quindi aspetta wow bellissima eh intanto c'ho psicologo che mi scrive ehm ah c'ho un'arma schifosa eh via si fermi qualcuno si deve fermi ehm ho detto per le tasse e quindi stia fermo perchè la or γ mi suicido ero funzionato su pc si vinta di quali signore 1 indeficiente che mi posso darlo serve solo lei 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 è il secondo scelto signori maroni via 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 non rompermi le pomme adesso mi picchi vuoi picchi ormi? peta 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 vieni qua vieni perchè c'ho i veicoli che mi vengono addosso adesso muori no 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 tu cosa hai capito tu ora ci crepi oh io adesso il prossimo cornuto ok si benissimo c'ho la polizia dietro va bene sono proteste a termini via muore c'è e uno ah c'è qualcun altro c'è qualcun altro vai mi vendico dopo tutti i soprusi che mi avete fatto venite qua ah su ancora chi è? piatti pure questa vediamo c'è qualcun altro No, no, perché se c'è qualcuno oltre, ecco, ho fatto. Ma, 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 cioè, sono sopravvissuto alla pulizia, sono morto da me. Ma vedi che, allora sono un deficiente, cioè.